Ciao a tutti, mi chiamo Giovanna e sono una volontaria di Avvocato di Strada Bologna. Vi ricordo che gli unici motivi per cui è possibile allontanarsi dalla struttura sono motivi di lavoro, motivi di salute o comprovate necessità, come ripetere generi alimentari o farmaceutici. Se avete necessità di utilizzare i mezzi pubblici per spostarvi, sempre per i motivi che vi ho ricordato, rivolgetevi agli operatori della struttura per munirvi, se possibile, di guanti monouso e di mascherine. In ogni caso, mantenete la distanza di un metro di sicurezza dalle altre persone anche all'interno dell'autobus. Nel caso in cui non doveste avere a disposizione guanti monouso o mascherine, munitevi di fazzoletti per evitare contatti diretti all'interno dell'autobus e successivamente buttateli. Questi non possono e non devono essere riutilizzati. Una volta rientrati, ricordate di buttare i guanti, di togliervi i vestiti e di lavarli ad alte temperature, possibilmente in lavatrice, altrimenti a mano, accordandovi con gli operatori della struttura. Ma soprattutto ricordatevi di lavarvi correttamente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Il sapone erode il virus e permette di evitare che veniate contagiati. Durante le eventuali uscite e in generale durante tutta la giornata, tenete le mani lontane da occhi, naso e bocca. Qualora il virus sia sulle vostre mani, gli impedirete di attaccare le vie aeree e quindi di contrarlo effettivamente. Se tossite o starmutite, ricordate di farlo nell'interno del gomito, non all'aria né nella mano. Questo aumenterebbe le probabilità di contagio e subito dopo dovete provvedere a lavarvi accuratamente le mani. Seguendo queste poche regole ed attenendosi a questi comportamenti, ne usciremo presto. Insieme ce la faremo e andrà tutto bene, perché come diciamo sempre noi, non esistono cause perse.